Io leggo un sacco di cose rispetto al mio futuro. A volte sono entusiasmanti, altre volte imbarazzanti, altre volte sono veramente dei voli pindarici. Non aggiungo altro, nel senso che il mio futuro lo programma quando sarà ora di programmare il mio futuro. Vedo però che molti sono interessati al mio futuro, quindi come si dice, dormi preoccupato. Un volo pindarico forse non lo farebbe, ma uno per Bruxelles forse lo vorrebbe prendere. Luca Zaia glissa sul suo futuro e cerca di frenare le voci sul suo destino, che oramai, dopo le parole di Salvini, è sempre più vicino all'Europa. La bocciatura in Senato dell'emendamento sul terzo mandato per sindaci e governatori, almeno all'apparenza, non lo scompone. Ma parliamo appunto di apparenza. Io non vivo dell'ansia del terzo mandato e non perdo sono per questo. Penso che i cittadini debbano essere rispettati, dopodiché il Parlamento sovrano deciderà se continuare in questo Paese a bloccare il mandato ai miei sindaci e ai governatori e garantirlo a vita a tutti gli altri oppure uniformare il tutto. In via di principio, anche giuridica, l'emendamento è presentabile in qualsiasi provvedimento, da qui fino allo scadere del problema. Diciamo che è un tema che deve affrontare il Parlamento. Non perdo le mie giornate per la destra roba. Il presente per Zaia è l'autonomia. Il governatore nega che ci sia stato uno stop al disegno di legge. A me non risulta che ci sia uno stop all'autonomia. L'autonomia va avanti, c'è questo provvedimento in discussione alla Camera, verrà votato alla fine perché accadrà quello che è accaduto al Senato. Se non fosse così vorrebbe dire che la maggioranza viene meno a uno dei pilastri del programma di governo. Per Zaia l'incontro con Salvini è stata l'occasione per annunciare la prossima inaugurazione, prevista lunedì a Trissino nel Vicentino di due nuovi bacini di laminazione e il punto degli ultimi cantieri della Pede Montana. In Pede Montana verosimilmente faremo i due innesti sulla 4 in direzione Milano e Venezia alla volta di fine aprile e prima di maggio.